ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi noi proveremo di nuovo la TNT mod che abbiamo già provato ma alla fine del video ci sarà una sorpresa e anche un avviso prima di tutto cominciamo dalla TNT x2 che abbiamo già visto poi c'è la TNT x4 andremo veloci perché poi vi farò vedere quella c'è la TNT x8 la TNT x20 che questa fa pure il fuoco per chi non l'ha visto nell'altro video intanto già il fuoco l'ho fatto io guardate che cratere assurdo ma ora alziamo di davvero tanto il valore questa è la TNT x100 ed è l'uovo di scheletro ed è tutta grigio guardate che cratere assurde come avete visto questo telefono lagga davvero poco il buco che ha fatto è davvero qualcosa di enorme e ha fatto delle radiazioni addirittura fino a questa montagna avete visto ora è il turno della TNT bomba atomica 200 volte la TNT normale mettiamola qua e qui laghera un pochetto l'accendiamo oh mio dio queste bombe hanno una cosa particolare che creano una croce di pietra al centro è davvero una cosa molto strana anche la bomba nucleare della della mod sulla switch faceva la croce e non so perché ma ora ragazzi passiamo in una bomba davvero letale la bomba idrogeno questa io la metto qui sotto per vedere come tira giusta per vedere proprio come fa il massimo dei danni volevo vedere cosa faceva la metto qui per vedere come stradica tutta sta collinetta l'accesa ragazzi oh mio dio sta laggando sta laggando tutto oh mio dio oh mio dio oh mio dio ha creato pure questa una croce ma il buco si vede che nettamente più grande ragazzi ma lo vedete quanto è più grande di quella di prima infatti questa non ve l'ho detto ma è per 350 volte e ora ragazzi è il turno della bomba nucleare ed è per 500 allora giusto in tempo abbiamo beccato un'altra collinetta da far esplodere con questa bomba che questa è veramente incredibile eccola qua l'abbiamo accesa bomba nucleare 500 volte la TNT normale intanto c'è anche una palude secondo me sto laghetto non so se ci sarà ancora ha fatto il fumo quindi dovrebbe già comparire stanno crollando tutte le sabbie di là non so perchè abbiamo visto dei blocchi in movimento quindi sarà sarà la ghiaia oh mio dio sta ancora laggando guardate sti blocchi sospesi ma non ma stanno ancora laggando guardate come sono tutti fatti perchè questo è lagg colpa del lagg cioè tra un po' sti blocchi scompaiono li ha distrutti lì ma guardate che cratere immenso io voglio far comparire sti blocchi perchè non fanno vedere tutto il buco e no ci sono purtroppo ma guardate che cosa ha fatto che cratere e non posso togliere sti blocchi perchè sono già tolti ma questa TNT è qualcosa di incredibile ma giusto che ci siamo adesso faremo esplodere questa TNT che l'ho scoperta da poco e la faremo esplodere nel deserto non dite che sarà una TNT ancora più potente ma ha qualcosa di particolare praticamente si attacca alle pareti guardate anche se l'accendo rimane attaccata alle pareti e ha fatto anche un bel buco infatti questa è otto volte la TNT normale e si chiama la sticky TNT ma ora tanto rocket launcher l'avete visto che è una specie di lanciarazzi vi faccio vedere una cosa devo prendere il ferro tanto questa qui anche l'avete già vista ecco qua no ho paura di farla esplodere nel deserto perchè questa è la TNT per mille nel deserto lagga davvero ma un casino la facciamo la mettiamo qui sapete già come si costruisce che ve l'ho già fatta vedere ed è questa TNT per mille che è davvero bella sembra un pianeta sembra Saturno l'ha accesa qui ci deve essere un lag atroce oh mio dio stanco fortunatamente che sto telefono lagga poco stanno crollando tutti gli alberi vedo i bastoncini e i saprins cadere oh maronna oh mio dio oh mio dio oh mio dio questa non ha creato la croce come le altre ma il buco è ancora più largo non vedete che è ancora più largo degli altri non ha fatto la croce ma è ancora più largo guardate che cosa ha fatto enorme ragazzi ora vi voglio far vedere una novità grazie a questo telefono che lagga poco posso permettermi una cosa posso piazzare qualcosa ma a dir poco devastante a dir poco incredibile ed è proprio questa TNT per 2000 pronti via e c'è il fatto che sta TNT distrugge pure l'ossidiana ma io l'ho tolta per far vedere il massimo del massimo dell'esplosione e guardate quanto sta laggando oh mio dio sta facendo non lo so sta laggando a bestia madonna oh oh ma sento l'acqua sento l'acqua di questo laghetto non so perché è il laghetto più vicino oh mio dio ho visto per un attimo il buco ho visto oh mio dio ma no dai tutti questi blocchi sospesi no metto un attimo in pausa ok ho voluto mettere un attimo la pausa perché volevo che quei blocchi lì scomparivano quei blocchi che laggavano oh mio dio c'è l'acqua lì ma io non ho mai visto un buco così grande creato da una stella o da una tnt questa mista che è una stella si chiama neutron star guardate che cosa assurda guardate che cosa ha fatto ha fatto delle radiazioni incredibili assurde e ha scoperchiato una voragine scusa scusa se parlo male ma ha fatto una voragine ed è addirittura scavato verso il basso fino a qui c'è rendetevi conto la potenza di sta bomba e comunque ora vi devo dire un avviso davvero importante se questo video raggiunge i 12 like e raggiungiamo anche gli 85 iscritti su youtube vi porterò la serie degli scp e ragazzi sono ben 30 30 scp tutti diversi da vedere arriviamo a 12 like e a 85 iscritti su youtube e io vi porto questa cosa ciao se questa cosa sto mobizen lagga madonna scusate un fake